Buona domenica ma soprattutto un buon anno da Cesena, Aroge il Stadium, Dino Manuzzi da dove vi saluta Luca Alberto Montanari, Cesena-Vezzano, prima giornata del 2019 di un girone di ritorno che la scuola di Beppe Angelini inaugura dall'alto di un primo posto in classifica. Tutto pronto, l'arbitro consulta i propri collaboratori, Fortunato centrodestra e Campagna centrosinistra alle 4-3 del Cesena, si comincia Campagna, Alessandro, l'atto a curto dell'area di rigore, il cross, dentro l'area, Ruti si testa, poi no, ci attraversa! Campagna, pala ancora in gioco, il cross, l'uscita di Fanti, subito Brividone! Ottimo il tocco di Dosa da quella parte, l'inserimento di De Roccis quasi al limite, poi Besana, la sorprezione di De Roccis, il cross, attenzione no, c'è il tocco, gol! Vantaggio dell'Avezzano, incredibile, a sorpresa 10 sul cronometro, la sblocca l'Avezzano qui con Manari, 1-0 dunque per gli abruzzesi che subito trovano la rete del vantaggio. L'inserimento di Kras al limite, ancora Dosa per Kras, attenzione Kras, rimpalla Gliardi! Tiene in vita il Cesena, poi Benassi, il sinistro ancora Gliardi, il Cesena dietro non c'è! Carica la fionda, lascia lì però il pallone, trova Alessandro, posizione regolare, il cross di testa, poi Ricciardo, Campagna, Campagna, Campagna! A colpo sicuro, Cesena che chiede anche il calcio d'angolo e forse anche il calcio di rigore, ma l'arbitro ha visto tutto. Andiamo a rivedere, ottimo scarico di Ricciardo, poi Campagna a colpo sicuro con il sinistro, rivediamo qui grande inserimento. Lato corto dell'area di rigore, il rimorchio ancora di Alessandro, tocco morbido, Ricciardo, posizione regolare, Ricciardo! Ricciardo! Si ricomincia da Gianni Ricciardo, super gol, super pareggio, 1-1! Se ne va lui, Alessandro, dentro l'area, attenzione, calcio di rigore per il Cesena! Calcio di rigore, ci ha pensato qualche istante il signor Vingo, poi andiamo a rivedere, doppio passo, lo lascia sul posto, Besana, vediamo un po', tocco su Alessandro, calcio di rigore, ineccepibile signori! È pronto Alessandro, fischia l'arbitro, la rincorsa! Alessandro! Alessandro! Completa il sorpasso del Cesena! La dedica al cielo di Danilo Alessandro, Cesena 2, Avezzano 1, sorpasso completato! Arriva qui, il duplice fischio del direttore di gara, è tutto vero, Cesena che ha ribaltato la sfida nei minuti finali del primo tempo, da 0-1 a 2-1. Primo pallone per il Cesena, si ricomincia, è cominciata, è ricominciata, Cesena, Avezzano dunque 2-1, doppio primi 45 minuti in rimonta, Cesena avanti con Tonelli, Alessandro, posizione regolare, Alessandro dentro l'area, Alessandro, Alessandro! Lo sparo e la parata di Fanti, Cesena che va per il Tris, chiude tutto, chiude la sara cinesca, Fanti, grande idea in contropiede sull'asse Tonelli, Alessandro 1,45 sul cronometro, a un passo dal Tris, contro cross, dentro l'area, Ricciardo, poi Alessandro, Alessandro! La doppietta di Alessandro, 3-1, posizione regolare, tutto valido, tutto vero, 3-1. Intanto calcio di punizione, Manari dunque, andrà lui con il destro, barriera 3 per il Cesena, va Manari, pallone assolutamente impreciso, 1-2-3, è gioco, partita incontro, 3-1, finisce in gloria per il Cesena, la prima partita del 2019, Cesena 3, Avezzano 1... Grazie! Grazie! Grazie!